Una delibera senza precedenti, assunta dopo l'approvazione del bilancio della legge di stabilità, vergata a mano, con una procedura che è sicuramente illegittima, questo l'abbiamo sottolineato, motivato, abbiamo chiesto e chiediamo, insistiamo per la revoca di quella seconda delibera, ma ciò che a noi preme è la mancanza di visione. Questa giunta poteva godere degli effetti del risanamento finanziario, dell'equilibrio finanziario, di maggiori risorse che provenivano dagli anni passati, grazie al lavoro dell'assessore a bilancio Silvio Paolucci, eppure non ha saputo fare delle scelte. Noi indichiamo cinque priorità secche, insieme a molte altre proposte, più risorse e dove prenderle, per finanziare la legge sul commercio, per finanziare le piccole opere dei comuni, per finanziare un piano straordinario di rientro dei giovani in Abruzzo, per finanziare la cultura, per finanziare l'indennizzo del danni degli agricoltori da fauna selvatica, per finanziare l'erosione della costa.